Salve a tutti da Rocco. Oggi vi presento un brano di Natalia Ginzburg, che è una delle scrittrici più importanti del Novecento italiano. Si intitola Lui e io. È molto semplice. Lui ha sempre caldo. Io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Lui sa parlare bene alcune lingue. Io non ne parlo bene, nessuna. Lui riesce a parlare in qualche suo modo anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento. Io nessuno. Lui ama il teatro, la pittura e la musica. soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica. Mi interessa molto, poco, della pittura. E m'annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo. Ed è la poesia. Lui ama i musei e io ci vado con sforzo. Con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere e sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa. Non mi muoverei mai. Lo seguo, tuttavia, in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Non è timido ed io sono timida. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie, il vino rosso. A me piace il minestrone. Io non so amministrare il tempo, lui sa. Io non so ballare, e lui sa. Non non so scrivere a macchina, e lui sa. Non so guidare l'automobile, e lui sa. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, e vi abbraccio. Ciao a tutti da Rocco. Continuate a seguirmi su il mio Weising. Ciao! Ciao! Alla prossima.